c'è uno che dice vicino all'amico che deve partire e vai in america con la nave gli dice perché non prendi l'aereo fai prima lui dice no 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 ho paura che cade l'aereo lui dice ma dai non ti preoccupare mica che è la tua ora lui risponde la mia no il problema è quello del pilota